perché sappiamo benissimo com'è l'iter della giustizia italiana intanto Canis fa 3 a 0 mentre sta per arrivare il terzo corner della gara lo batterà il Cuno nuovamente arriva il 4 a 0 di Isham Canis che tutto solo fa doppietta mi segnalano intanto che forse in panchina c'è il nuovo direttore Palumbo intanto fa 7 a 0 Canis rientri in scivola intanto Piccarelli in area di rigore c'è Canis che apre il piatto e fa un assist per Canis che è in posizione regolare contro lo difettoso ma comunque riesce a fare gol il numero 13 non per quello visto in campo di sicuro Canis ne fa 7